E' importante però questa conferenza stampa, ha maggior ragione adesso per chiarire esattamente di cosa stiamo parlando, perché sapevamo certamente essere un tema delicato, ragion per cui ne volevamo parlare prima, ho già visto uscire manoscritto, quindi è meglio rassicurare un po' tutti e spiegare bene di che cosa stiamo parlando. Allora, c'è qui anche l'ingegnere Mascherpa che ovviamente poi dal punto di vista tecnico può spiegare meglio, può dare alcune delucidazioni e chiarimenti. Allora, innanzitutto si tratta dell'opportunità di poter aderire ad un finanziamento, che poi chiaramente ci deve essere conosciuto, sulla rigenerazione urbana, nulla a che fare con quello ampiamente discusso, che erano strategie di sviluppo, sono ancora in corso, tutt'altra cosa. Questo è un classico, come dire, bando in cui tu presenti la riqualifica, però non di un singolo edificio, ma di un'area all'interno della città. Adesso veniamo al noccio della questione. Come sapete, qui magari tecnicamente può spiegare meglio l'ingegnere Mascherpa, è una struttura costruita, insomma, a più di 50 anni e con, magari entra più nel dettaglio, Clara Mascherpa, con alcuni problemi. Il più grande è quello della staticità e della validazione della staticità della struttura. Più alcuni problemi di manutenzione, che la stessa società giustamente lamenta, manutenzione degli spogliatoi, i bagni, insomma, tutte le strutture che sono a corredo della palestra, che chiaramente necessitano di interventi importanti, perché la semplice manutenzione ordinaria non consente di dare una, come dire, anche dignità che merita questa palestra quando vengono squadre a visitarci, ma anche solo, vorrei dire, per chi la frequenta, i bambini, i ragazzi che si allenano. Allora, il ragionamento è stato questo. Abbiamo questa opportunità di avere un finanziamento importante e cospicuo che ci consenta, non dico domani mattina, ma magari di poter avere sostanzialmente una nuova palestra. Una nuova palestra per le ragioni che dicevamo prima, con le nuove normative, ma qui poi lascio spiegare a Clara Mascherpa. Adesso siamo abbastanza tranquilli rispetto alla possibilità, perché l'ultima attestazione è positiva, non solo per il basket, ma anche perché riteniamo che una struttura con una capienza importante all'interno della città e con la possibilità di avere una multifunzionalità, quindi di ospitare anche eventi, convegni, feste, eccetera, al centro della città serva, perché non abbiamo, abbiamo la cavallerizza, serva ancora di più dopo quello che abbiamo vissuto con il Covid, dove sappiamo benissimo che il discorso dell'affollamento comunque, anche se diminuirà, concettualmente rimarrà e quindi tu avrai bisogno di spazi più grandi per ospitare certi tipi di eventi perché probabilmente un certo distanziamento rimarrà. Quindi cosa abbiamo detto? No, la struttura deve essere, anche se si sacrifica in qualche modo, magari un pochino di parcheggio, un pochino di intervento complessivo, ma deve rimanere con le stesse caratteristiche della Carducci, del Palabasletta. Allora abbiamo, perché non volevamo ovviamente inventarci noi come deve essere fatta una palestra, abbiamo fatto un passaggio con il pool che è il concessionario, ma con le società che ne fanno più utilizzo, quindi la Cata e anche la nuova Palacanestro Vigervano, per chiedere se dovessimo fare una nuova Carducci, come deve essere fatta? Diteci voi quelle che sono le caratteristiche tecniche per poter consentire, non solo di fare gli allenamenti alle giovanili, e quelle potevano andare bene ancora per questa più piccola, ma per disputare i campionati delle categorie alle quali partecipo ovviamente la Palacanestro Vigervano.